Un presidio dinanzi al Tribunale questa mattina messi in piedi dal coordinamento aquilano per la Palestina in occasione dell'udienza in corte d'appello per la scarcerazione di Anania Esh, il militante palestinese di 37 anni residente all'Aquila, scarcerazione che comunque non avverrà anche se sono due procedimenti distinti perché ieri la Digos ha fatto tre mandati di arresto, uno riguarda lui, attualmente è in carcere a Terni dopo essere stata arrestata una prima volta su richiesta delle autorità israeliane che ne chiedono l'estradizione ma per il coordinamento un'eventuale estradizione sottoporrebbe l'uomo che vive e lavora l'Aquila dal 2017 a trattamenti inumani. Per quanto riguarda l'operazione della Digos le accuse sono di terrorismo internazionale e deversione oltre a far riferimento alla preparazione di attentati da parte degli arrestati, accuse pesanti ma per il coordinamento le persone coinvolte non hanno avuto accesso al fascicolo come è accaduto per Ananna a fine gennaio scorso con un arresto ingiustificato. Era presente al presidio anche Khaled Qaizi, ricercatore palestinese che fu arrestato durante un viaggio in Cisjordania dalle autorità israeliane senza capi di accusa con 32 giorni fatti in carcere in Israele. Lavora come traduttore alla Sapienza di Roma. Temiamo che siano un pretesto per riuscire ad evitare l'estradizione ma al contempo evitare di condannare Israele e mettere nero su bianco le motivazioni della mancata estradizione ossia che nelle carcere israeliane non vengono rispettati, non viene rispettato alcun tipo di diritto, viene praticata la tortura. Ad oggi come già detto ci sono stati da ottobre ad oggi quindi in poco più di cinque mesi oltre 37 morti nelle carceri israeliane. Evidentemente questo governo vuole mantenere buoni rapporti con Israele, vuole evitare di rifiutare le estradizioni per queste motivazioni e quindi va a cercare dei tecnicismi. Per il diritto internazionale la Cis Giordania è un territorio occupato e il diritto alla resistenza nei territori occupati è stancito dal diritto internazionale. Per i manifestanti ad ogni modo c'è un accanimento per le persone palestinesi in questo momento e per chi cerca di opporsi ad un cenocidio in corso. L'obiettivo del coordinamento è quello di dare alle persone la possibilità di ascoltare una narrazione diversa da quella che per loro si fa passare e allora hanno deciso di alzare la voce contro chi a loro giudizio vuole continuamente violare i diritti umani e il diritto internazionale che costinge all'apartheid, deporta un'intera popolazione e torture dei tenuti, anche minorenni. Ananka Esh, di 37 anni, originario della città di Tulcarem, Cis Giordania, ha condotto la propria attività politica all'interno del contesto della seconda intifada, ha scontato oltre quattro anni nelle carceri dell'occupazione e subito un agguato dalle forze speciali di Israele nel 2006 durante il quale riportò gravi ferite. Lascia la Palestina poi nel 2017 raggiunge in Italia, si stabilisce qui. Nel 2019 ottiene un regolare titolo di soggiorno e la protezione speciale dell'Italia per i suoi trascorsi. Nel 2023 Siracan Giordania viene rapito dai servizi di sicurezza giordani allo scopo con ogni probabilità di consegnarlo ad Israele, spiegano i comitati. Sei mesi di detenzione, nel novembre del 2023 torna in Italia all'Aquila dove risiede e viene arrestato il 29 gennaio a seguito di un mandato di cattura italo-israeliano. I palestinesi in Israele in Palestina sono soggetti alla corte marziale, non è un tribunale democratico che li giudica, quindi Anan rischia, se torna in Israele, rischia di essere torturato e anche ucciso.